ragazzi benvenuti nell'equalizer craft vi ricordo il link in descrizione questo è il mio modpack e questo è il primo video andiamo subito a creare un mondo survival si vediamo un sacco biomass of plenty chess bonus ma si dai chess bonus ok chiamiamo il mondo per sicurezza e raga madonna mia partiamo subito ah raga il launcher lo potete trovare in descrizione oppure cercando anche sul technique launcher equalizer craft ragazzi questo è un modpack avventura soprattutto no sense proprio non ha senso e piccole cose sono anche tecnologiche diciamo si vabbè ce l'enderai come l'unica mod veramente tecnologica e vabbè l'immersive engineerist se non mi sbaglio le recyclare le recyclare sono abbastanza difficilotte però ci sono le recyclare quasi di tutti gli oggetti oddio si parte già da questo bioma ragazzi due secondi ci vecchiamo dopo due secondi devo sistemare alcune cose tra le impostazioni va a dopo raga eccoci raga poi abbiamo un bello eccoci poco minimali sempre meglio di niente non capisco perché sto allaggando così tanto riavviare i chunk sto scattando un po' allora la prima cosa che troppo odio esatto ragazzi anche la nostra carissima forse ci devo abbassare un po' il volume del gioco vedete la nostra carissima non ricordo mai insomma questa qua sotto questo qua era un co-villager vediamo quindi io posso oh interessante vediamo un po' gli altri guardate un po' padonna questa mod è stranissima è stranissima muori male villager interessante interessante ragazzi qua troviamo già la prima mod che non conosco e che voglio provare insieme a voi la vampirismo ovvero ci sono i vampiri in questo mod quello sembra un fantasma infatti è un fantasma oh 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 vaffanculo vaffanculo aia fa malissimo fa malissimo fa malissimo fa malissimo ok già raga c'è anche la luttura ecco ok ok ah copperò vabbè guardate un po' ci siamo già riempiti di cibo questa è una mod spettacola non troppo questo si beh rubino giomini aspettate un attimo ho visto una cosa di strano questo no ok dai risaliamo voglio entrare un attimo dentro ostile come posto da quest'impressione soprattutto credo che ci sia un mod dove c'è tipo un fruscio del vento oppure è proprio il bioma potrebbe essere questo è un posto sono prigioni da vampiro è una genuta di vampiri oh cazzo questi sono veri vampiri cosa qua è una città di vampiri regà cosa è una città di vampiri stacca tutto hanno imprigionato anche gli animali devo scappare mio dio questi sono tipo skyrim mi piace se non è un po' da un po' mi piace non cominciamo bene eh un attimo io faccio facciamoci una spadina ah cioè praticamente è soltanto un blocco decorativo devo farci qualcosa con questo rubino sapete e con lo smeraldo ci posso fare un qualcosa corso quindi posso fare solo la spada di legno però facciamoci la spada di legno ma io c'è più e partiamoci questo mi dà un'altra dissaturazione quindi io aggiungo un attimo credo che sia un tipo le stall si le stall oh oh cazzo è già vampiro sono inventato davvero oh guardate può essere me la prendo assolutamente inventario il sol ok facciamoci una spada in ferro che secondo me è adesso molto utile e qua io direi postiamoci anche casa camasso che qua devo dire un posto strano però il saluto questo lo teniamo questo questo qui questo qui questo questo perfetto di un altro puro giro è giusto rega essendo vampiri loro optano per la notte e questo mondo mi sto facendo venire in mente di fare una serie il tipo una mod per sky che ci sto si perché i compiti torno torno questo castello ma quindi io adesso sono un vampiro sono un vampiro regalo vabbè ma non già il primo livello dal primo episodio questo mondo dovrebbe essere ancora in fase di sviluppo lillipad certo squazze si legava una sola pede magari per chi non gli piacciono determinate cose e premettiamoci ragazzi per questo video è tutto voglio vedere un attimo se ci cambia qualcosa alla schiena perché mi sa che cambia qualcosa mi sarei aspettato almeno gli occhi rossi per caso è tutto ci vediamo al prossimo video lasciate un pollice in su per supportare la serie scrivetemi cosa ne pensate cosa vorreste che io faccio in questa foresta nel castello di dracula che puoi dobbiamo entrare io in verità potrei entrare anche normalmente perché si può dobbiamo persino gli animali adesso no perché io per loro adesso sono un loro amico rega per questo video è tutto vi ricordo che vi ricordo che voi potete entrare nel mio ps vi gratuito vi insegnerò anche come farlo gratuitamente io vado ci mettiamo tutto alla prossima alla prossima ciao ciao